Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua per andare a provare LR, Yamcha, Puar, Eza, finalmente, anche con un bellissimo artwork ancora ad oggi. Siamo qua per andarli a provare in un team con doppio Goku Tech, in uno degli eventi cattivi. Lo vedete appena iniziamo. Yeah, Boss Rush Red Zone Movie Bosses. Yeah, la vera sfida. Possiamo partire direttamente. Allora, 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 turni. Vogliamo Bulma. E con questo siamo a posto, l'ho detto. Ora, ora, Def. La Def non la dobbiamo guardare, perché il 99% della sua Def è tutta al lancio. Quindi, sì, tecnicamente non è molto speciale quando gli guardate la Def così. Parte un po' sottotono, parte un po' sottotono, Yamcha e Puar. Però calma, sangue è freddo, ce lo portiamo dietro e via. Batnik 04, grazie mille per la Sab, 21 mesi, scusami, non ti avevo letto. Grazie mille. Partiamo un attimo sottotono. Oh! Oh! Yamcha e Puar! Diretti! Così, di cattiveria! 16 milioni! Yamcha e Puar! Oh! Oh! Ok, va bene. Oh! Oh! I danni li fanno! I danni li fanno, chat, su questo? Non si può di niente, direi. I danni ci sono, ok. Allora, giusto un attimo ricordarsi quello che combina, perché, yeah, così ve lo ricordate, nel senso, facciamo questo. Allora, chi più 5, attack ad F-150 al lancio della speciale, plus un additional attack ad F-100% al lancio della 18, lancio un additional attack con high chance di diventare super attack, perform un additional attack con high chance di diventare super attack quando c'è un altro joined forces category ally attacking the same turn, c'era Gone piccolo, e poi, def-150 e il carattere è stannato se c'è una Peppy Gulls category enemy, chi più 3 attack 150 ha i chance to evade enemy attack quando non c'è una Peppy Gulls category enemy. Yeah, funziona che... Boh, speriamo che vada spesso e via, raga. Fine. Quello è come deve funzionare. Va bene. Talmente OP che fa crashare Dokkan, raga. Mamma mia. La potenza, la potenza. La vera potenza. Allora, l'unica cosa che ci importa è avere le revive per Goku, per i due Goku, e basta, quello. Quello è effettivamente. E poi avere Bulma in turno. Bulma la teniamo a girare, però con Bulma ci linka un pochino, quindi... un po' di link li vediamo e via. Cioè, gli dà anche il buff e tutto... Oh, offrirà qualcosa Bulma Yamcha. Offrirà qualcosa Bulma Yamcha. È questo che ci importa. Vedere i baffini tecnico-tattici. GG ban. Certo, ho scelto una fight veramente cattiva, eh. Certo, ho scelto una fight veramente cattiva. Però dai, va bene. Allora... Guarda, possiamo anche fare questo, eh. Possiamo anche fare questo, raga. Tanto sicuro all'inizio, quindi via. Sicuro e via, dai. Proviamo così. 18 milioni! Ok! Deve crittare. Deve crittare. Attenzione, calma. Deve crittare. Buono. I pugni se li sta tankando per ora, va bene. Ma è giusto per provarvi che... In realtà la difesa ci arriva un po'. Tirata una 18, una 12, la difesa un po' arriva, eh. Parte che sia 50.000 def. Però si fa. Sono appena arrivato. Di chi sono gli showcase? Yamcha e Puar. Yamcha e Puar è il loro momento, signori. Possiamo tenerli primi... Tenere il primo Vegeta, così abbiamo una revive a comando. Se ci serve... E via. Ovviamente ci fa comodo avere la revive, quindi... Cerchiamo di averla. Se è per questo sta caricando anche più di Vegeta. Se è per questo. Sta caricando più di Vegeta, Yamcha e Puar. Tanta roba. No, voglio vederlo... Voglio vederlo con Bulma in turno. Voglio vedere se... Cosa ci combina. Voglio vedere cosa ci combina con Bulma in turno. Tre, i Dos, i Unos. Voglio giusto vedere cosa ci può combinare con Bulma in turno e... Provare ad andare il più in là possibile con Yamcha. Questo è quello che mi interessa, diciamo. Voglio giusto ridere insieme a voi con Yamcha. Cioè, far ridere Yamcha. Danni ne fa, danni ne fa. Sono contento di quello. Aia. Allora, what if lo teniamo primo? Ok. What if lo teniamo primo? Vai in 18. 5 orb. Ok. Con Bulma, c'ho questi link attivi. Vediamo un po', dai. Sì, beh. Deve vadere il pre-special. Però ha fatto 19 milioni, eh. Ah. 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 Aia Aia Ha fatto male? Sì Allora non vorrei morire qua Per quello sto facendo anche in sto modo Non voglio morire perché se mi porto avanti Ancora un turno in realtà è meglio perché abbiamo la revive Di Gon e piccolo che Non è meglio di quella di Vegeta Però è meglio per Gon e piccolo È meglio per Gon e piccolo Sennò è evasione o morte No eh grazie Ok calma Ho forzato la revive di Gon e piccolo Dai vai Gon Tranquillo Carriaci Carriaci Gohan Buonasera Andrea Zumo buonasera Oh comunque Stessi danni di Vegeta Aspetta Yamcha Attenzione Yamcha the goat Yamcha the goat Veramente Il goat raga Signori Incredibile Aia Revive Non lo so eh Non lo so se è revive time ora No ok Va bene a posto Niente revive ancora Buonissimo La tiriamo ora La terriamo ora la revive Tranquilli La terriamo ora la revive Ci importa Ci importa Ci importa quella di Gon e piccolo Ragazzi affidatevi Voglio bene a Vegeta Ma voglio Bene anche a Gon e piccolo Rimaniamo in vita Rimaniamo in vita proprio Per uno sputacchio Proprio Allora 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 Ma siamo già al turno 7 Porca Eva Andiamo a crepare Andiamo a crepare Andiamo a crepare Andiamo a crepare Preparate le lacrime Piccolo Sam No Si è sacrificato Per un bene migliore E più importante Si è sacrificato Per un bene Importante Ok Il nostro boy Si è sacrificato Non deve essere vana La sua morte Chat Non dobbiamo Non dobbiamo Assolutamente Sprecare La La revive Non dobbiamo Sprecare La sua revive A posto Allora Adesso Giusto Giusto Un attimo Che sto pensando Yamcha in mezzo E via Ah no Ah no E' vero Aspetta Lui Locca C'è 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 Bojack Non mi bloccare Yamcha per favore Ah 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 Aspetta No Damn Damn Son That's not fair That's not fair F F Detto fatto I know Peccato che Il 100% Evasione Si 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 Tira Strunz Volevi 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 Ok Avrei preferito Kid Gohan Loccato In questo caso Che era un pochino Meglio la situazione Per noi Vediamo un attimino Prepariamo un turno Yamcha Bulma A sto punto Chat vi dico Prepariamo un turno Yamcha Bulma 14 milioni Oh Come danni Mi piace Come danni Mi piace Calma Perché comunque Deve vadere Calma Perché comunque Deve vadere Importante Buono Buono Meno buono Molto meno buono Molto meno buono Eh Dokkan Dai Non puoi essere così Stronzo con noi Dokkan Eh che cazzo Eh questo ci rovina I piani Chat Questo ci rovina I piani È molto simile Alla corsa di Frieza Se ci fai caso Dopo ci provo A far caso Peccato Per il potere Di Bulma Eh vabbè 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 Volevo tenere Goan primo Fare tutte le mie Cavolate Però ha detto No Bulma Starà prima Per te Allora Abbiamo ancora Un turno Da vedere Perché raga Non credo Che andremo Oltre Giusto Giusto Capirci Un attimino Com'è la situazione Cioè Oltre Gianemba Non ci arriviamo Va bene Oltre Gianemba Non ci arriviamo Quindi voglio vedere Un turno Magico Con Bulma E tutte le Cavolate Ok Voglio vedere Un turno Magico Con Bulma E tutte le Cavolate Fine Si Bojack E rompipalle Tutti i pg che bloccano Sono rompipalle Si 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 Uso l'item Per tutto il resto Però Chi ha assilato Non quello che ottiene Tutta la difesa Al lancio No Dai Dokkan What are you doing What are you doing Dokkan Tecnicamente Non ci dovremmo crepare Così Voglio giusto Vedere Yamcha Con Bulma Però voglio anche Uccidere Sto turno Vorrei anche Uccidere Questo turno Se è possibile Dai Yamcha Sei in tutti noi Yamcha You can do it Yamcha You can do it Yamcha Allora calma 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 un attimo Chat Chat Calma un attimo Calma un attimo Ho un'idea pazza Ho un'idea pazza Calma un attimo Calma un attimo Ho un'idea pazza Pazzurda Pazzissima Pazzurda Veramente Ho un'idea Pazzurda Ideo Shalong Sì, sì, dai, non rompere Ideo Ho un'idea pazza pazzurda, chat Ok, allora Ho un'idea pazza pazzurda Seguitela con me Ho un bel po' di link, sono anche attivi Seguitela con me l'idea pazza pazzurda Ma, secondo me qua Janemba potrebbe crepare in un turno Janemba potrebbe crepare in un turno, calma Potrebbe crepare in un turno Allora, Bulma 13 milioni 8 milioni e 9 a posto Calma Ora è tutto nelle mani di Yamcha Ok, buono Good enough per noi Ok, buono Porca Eva, Yamcha Signori Yamcha 22 milioni Peccato no crit 12 milioni Nooo, non ci ha fatto il resto F Se tirava dei crit e tante special Era veramente figo Yamcha, signori Yamcha, mamma mia Mamma mia Yamcha Ok, fa schifo difensivamente Deve per forza evadere Quindi evade o esplode Però fa tanto danno Mi piace Mi piace Mi piace abbastanza È un free to play Quindi È giusto anche dire però Che dai free to play Non ti aspetti del danno Ti aspetti che siano utili Lui è ben lontano Dall'essere utile Mi dispiace dirlo È ben lontano Dall'essere utile In quel modo Però è carino LR free to play Mi piace Gioca in Earthlings DB Saga Ok Non da altre parti Quindi vabbè Da quel lato Però per giocare in Earthlings DB Saga Ci sta Attualmente È l'DPS più forte Dell'Earthlings DB Saga Cioè DB Saga Scusate Earthlings No, avete molte più Vabbè Però Per il DB Saga Attualmente È il DPS Il team DB Saga È il free to play Porca Eva Va bene raga L'abbiamo finito Yamcha Mi va bene comunque Siamo quasi arrivati Da Broly Siamo quasi arrivati Da Broly Mi va anche bene Ok Mi va anche bene Con tutta la sincerità Mi accontento Mi accontento Di Yamcha La rivelazione Yamcha LR La vera rivelazione Non è l'Ezza migliore Del torneo Che è appena Uscito Mr.Boo E Gohan STR sono migliori Ovviamente Mr.Boo Per la sua utilità In Artificial Lifeform Gohan Perché lo giocate Tranquillamente ovunque E tankheggia bene Però questo Yamcha Ci sta Non è così merdoso Alla fine Dovete considerare È un free to play Fa tanti danni È carino Non di più di carino Però Esplode Deve evadere Per forza Però Visto che era una Delle mie LR Preferite Così anche dal torneo Mi piace Mi piace che faccia tanta roba Mi piace che faccia tanta roba Come danni Peccato un attimino i team E tutto il resto Peccato veramente Ragazzi è stato un piacere Grazie mille per aver visto il video Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Questa non la aggiungo nel video Però fa comunque più danni di Rosè Ciao a tutti